Giulio Migliaccio Certo che fiato sospeso sino al novantesimo poi arriva questo gol liberazione che vale tre punti si festeggia nel miglior modo possibile il compleanno dell'Atalanta però insomma si è arrivati al novantesimo Sì, permettimi di dire che ce lo meritavamo perché comunque anche le altre partite l'Atalanta ha sempre creato tanto forse il primo tempo di Genova abbiamo subito l'avversario vuovere adesso l'Atalanta ha sempre dimostrato che conferma il lavoro fatto dalla società di quest'estate cioè un gran bello organico che può disputare un campionato sopra la media però bisogna un attimo adesso siamo ritornati in pista perché i quattro sconfitte pesavano ne avete risentito sì, ne avevamo risentito però oggi sarebbe stata l'ennesima delusione perché abbiamo creato tantissimo abbiamo disputato credo 90 minuti nella metà campo del Parma e alla lunga ecco il lavoro fatto ci ha ripagati Giulio, di sicuro ci avete creduto dal primo al 92esimo minuto Sì, questo Arda sono orgoglioso comunque anche io della squadra perché crederci eravamo stremati però la squadra ha avuto la forza di lottare fino alla fine e questi sforzi sono stati ripagati con una gioia di un ragazzo comunque Boeschi che si meritava anche lui questa soddisfazione Giulio, 107 anni che bel modo di festeggiare il compleanno Bellissimo io di questi 107 anni sono orgoglioso di averne disputati ecco, di averne passati 5 in questa famiglia perché grazie all'Atalanta sono riuscito a fare una carriera più che discreta e quindi è stato il miglior modo per festeggiare oggi ecco, sono orgoglioso di aver fatto parte di 5 anni di questa società e spero ancora per lungo grazie